Con il numero 23 è la catanese Naomi Moschitta, 17 anni, la nuova ragazza per il cinema 2018. Sono emozionata ma felicissima, dedico questa vittoria ai miei genitori che mi hanno aiutato. In questa avventura ha fermato a caldo la nuova Miss che ha poi confidato. Ci avevo provato nel 2014, era andata male. Dopo 4 anni ho voluto riprovare, il mio obiettivo era vincere e ho vinto. Seconda classificata la numero 93, Iris Mulas, 15 anni, dalla Sardegna. Al terzo posto la numero 90, Serena Caredda, 15 anni, sempre dalla Sardegna. Angela Etiope, campana, eletta nella 2017, dopo un anno ricco di esperienze artistiche straordinarie, lascia così la corona alla nuova eletta della regione Sicilia. La carovana, una ragazza per il cinema, ha attraversato in lungo e in largo l'Italia, illuminandola di bellezza in compagnia di attori, produttori, registi, giornalisti, musicisti, cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Le ragazze hanno avuto il privilegio di sfilare per la finale in uno dei luoghi più belli, il Teatro Antico di Taormina. A valutare le giovani, una giuria di esperti, l'attrice e docente di edizione Fioretta Mari, il maestro nell'arte del make-up, Pablo Gil Cagnè, il ballerino-coreografo Leon e il direttore dell'agenzia The One Model, re della moda Franco Battaglia.